Non dico let's go, l'ho già detto, bentornati ragazzi e ragazze, qui è San Sessionale e siamo qui per fare test d'amore. Prima di fare tutto ciò, vi dite come al solito, lasciate un piacere, o non vi piace, condividete questi video ai vostri amici, scuola che sono serio ma è una cosa seria eh. Leggiamo, ti chiedi se sei davvero innamorato? Sì, smetti di dovinare e preoccuparti. Sì, fai questo qui si è approfondito per decodificare la tua vita amorosa. Questo test, cioè, questo test ha senso, ma non facciamo prima Sanse più Lapis, facciamo Peridot e Mera Lapis. Lo so che non c'è lui ma facciamo finta. Allora Peridot ha la stessa età di Mera Lapis? Sì, dai. Questa cosa non è per me ma per Peridot. Sicuro? Sì? Ovviamente Per Peridot sì. Per Peridot sempre. Sì? Sì, anche loro. Ovviamente per Mera Lapis i regali. Sì, per Peridot sì. Sì, ovviamente per Peridot. Sì, ovviamente per Peridot mi ha detto che quando era con Lapis si sono usciti nella vita reale e si sono presi la mano. Ma in ginocchio o in piedi? Tutte e due, raga. E Per Peridot è geloso? Ovviamente potrebbe essere geloso. Io potrei essere geloso se Lapis piacesse un altro ragazzo. O per Nora o per Giulia, ma ho un'altra ragazza. Vabbè, sono così, raga. Sì, per Peridot ovviamente. Sì, ovviamente Peridot e Mera si eccitano. Allora, io, personalmente, questa cosa è per il rapporto tra Peridot e Mera, no? Per Mera e Mera. Io non so, un pochino so Mera, ma Peridot sa tutto di Mera. E io so tutto di Lapis. Sì, me l'ha detto le cose che non so di lei. E Nora? Eh, raga, ci sono tante cose che devo sapere di Nora, ragazzi, se vogliamo la 100%. Ovviamente, per, ovviamente a Peridot, no a me? Ovviamente, per Peridot. Sì, ovviamente. Aspettiamo un po', raga. Raga! Sono quasi al 100%. Porca di quella, porco il demonio. Quasi al 100%. No, raga, voglio stoppare il video, ma il video sarebbe corto lo stesso. Proviamo, allora, proviamo a fare Sans più Nora, dai. Perché Nora, perché Nora? Che cavolo ne so io? Perché, devo dire, sei sincero. Diciamo sì, perché non mi, perché non ci sono altre risposte. Sì, mi assicuro, non lo so. Di tanto in tanto. Ovviamente. Sempre, dai. Sì, ma come amico, ovviamente. Perché siamo soltanto amici, ovviamente. Io sono, sai, io. Sì. Quanti interessi si fa a condividere insieme? E che ne so io? Qualche volta, dai. Un po' A volte, dai. Sì. Sì, a volte. Anche, ma è della vita reale, ma... Sì? Naturalmente, dai. Ogni... Ovviamente... Sì. Ma... Potrei dire di tanto in tanto, per Nora, ma... Questa cosa è per... Il mio cuore dice che... Non può dire ciò che deve dire. Su YouTube, cioè nel video. Diciamo medio, dai. Qualche volta, dai. Questa cosa è per la sincerità. Non credo proprio che... Però possiamo dire sì? Chi lo sa? Che apporto abbiamo un'ora. Spero che non ho cliccato niente... Per far uscire questa app. E... Dai, ragazzi. Abbiamo un apporto buono, dai. Dai, dai. Potremmo andare molto peggio, eh. Facciamo... Facciamo Steven e Spinel. Allora, lo so che dovrei... Dovrei essere il mio amico, ma... Che se ne importa. Facciamo finta che sono Steven. Ovviamente, anche se Spinel ama Steven. Ecco. Non lo so che... Non lo so, amico. Non lo so. Non so se Steven Quartz, Universe... Ha la stessa attività di Spinel. Non lo so. Non so se per lei è sicuro. Ovviamente per Steven. Sempre per lei. Sì, ovviamente, per Steven. Boh. Non lo so. Per Spinel piace gli Steve, quindi sì. Boh. Questo video... Questa cosa non è per me, ma per Steve e Spinel. Sì, ovviamente, Spinel è su video per Steve, dai. Boh. Sì, certo. Certo, per Steve, dai. Sì, per l'ora, è romantico. Ok, io non sono geloso. Io sono geloso quando mi sento geloso. Spinel potrebbe essere gelosa? Forse per lei. Sì, lei fa... Stupida zanzara, vai e sparisci via. Se Steve è cura di vedere questo video, amico, se tu sai tutto di Spinel, dimmelo dei commenti. Sì, dirlo dei commenti. Sì, qualche volta per Steve e Spinel. E che ne so io. Sì, certo che Steve e Spinel si sono amati, dai. E vediamo che... Beh, ha fatto un anno. Dai, 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 dai. Dai, cioè, 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 quasi, dai. Questo video finisce così? E che ne so io? Ma... Ok Prima di finire il video Facciamo due e undici minuti O qualcosa del genere Facciamo sans Nazionale e lapis lazuli Oppure lapis Facciamo lapis Facciamo lapis lazuli e Lapis official Eh si Lapis tu ovviamente A caso eh Dai dai Serve sicuro non lo so Naturalmente Sì sempre ma Nel video mi sento tranquillo ma Mi sento un pochino preoccupato per lapis Lo so amore ragazzi Certo per tutto il tempo Amico Sì Sì Ops Ho sbagliato Cioè non ho cliccato L'hai esposta Certo che cosa Certo che so Lapis lazuli o lapis tu Cosa li rende felice Certo Certo Forse a volte Se dai Se 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 Alcuni 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 ragazzi Se lei ci prova Se 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 qualcuno tocca Lapis lazuli O Lapis tu O Giulia Grazio Nora Universita Bisquaglio Temaglio Ok sto esagerando Stavo scherzando ma Se avete sentito il battito è che Un pochino mi sento geloso ma Lo so che la gelosia È una brutta cosa ma Non riesco a essere Non riesco a essere Non faccio a meno di essere geloso Ogni caso Ogni santo giorno Certo Osserviato Ferti sapere tutto Sì 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 Sa tutto Sa tutto Certo 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 Dai 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 Bene il video finisce Qui Spero che il video vi è chiuso Lasciate un mi piace Mi piace E se non ora Lapis O Lapis stupido Questo video Continuate questo video Ai molti amici E ci vediamo A Prossimo Video Bella ragazzi Scusate mi sono imbattito